Ragazzi prima di cominciare ricordo che io non ho messo nessuna responsabilità dell'utilizzo di questa funzionalità di Parrot Ma ora incominciamo Allora per chi utilizza da poco Parrot avrà visto che sulle applicazioni è presente una finestra privacy e di conseguenza ha non serve Spiego in breve a che serve Allora avviando questa funzionalità di Parrot ti permette di modificare il tuo indirizzo IP da uno a un altro Ad esempio utilizzo la funzionalità di individuare il mio IP Ecco come potete vedere questo qua per ora è il mio IP Inoltre se andiamo su un sito web tipo questo potremmo vedere dove io per ora abito perché poi sarà molto importante successivamente Ok ora ipotizziamo che noi dobbiamo fare un attacco d'ossi e perciò dobbiamo camuffare il nostro IP In questo caso ci basta andare sulle applicazioni privacy Anonsurf e mettere Anonsurf start Vi chiederà sicuramente di killare con questo appare le applicazioni Voi gli dite l'ok In questo caso cambiate il proprio IP Ok sono sul sito di prima e potete vedere che l'IP di 4 è cambiato Ma anche la mia posizione Infatti prima eravamo in Sicilia Ora siamo vicino alla Francia Questo grazie alla funzionalità di Parrot Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti